George Mendel, il padre della genetica Gregorio a Mendel, nato il 20 luglio 1822 a Inice, nell'attuale Repubblica Ceca, è considerato il padre della genetica moderna. I suoi studi sull'ereditarietà, condotti su piante di pisello, hanno portato alla formulazione delle tre leggi di Mendel, che costituiscono la base della genetica mendeliana. Mendel proveniva da una famiglia di agricoltori. Fin da giovane e si interessò alla natura e alla scienza. Nel 1843 entrò nel monastero agostiniano di Birno, dove studiò matematica, fisica e botanica. Nel 1851 fu ordinato sacerdote e nel 1853 divenne direttore dell'orto botanico del monastero. Mendel iniziò i suoi studi sull'ereditarietà nel 1856. Scelse le piante di pisello come organismo modello per i suoi esperimenti perché erano facili da coltivare e, avevano un ciclo vitale breve. Mendel studiò sette coppie di caratteri ereditari, tra cui il colore dei fiori, la forma dei semi e la lunghezza dei fusti. Mendel effettuò incroci tra piante con caratteri diversi e studiò la distribuzione dei caratteri nelle generazioni successive. I suoi risultati mostrarono che i caratteri ereditari seguono determinate leggi. Le tre leggi di Mendel sono, legge della segregazione dei caratteri, in ogni cellula riproduttiva, i fattori ereditari relativi a un determinato carattere e si separano l'uno dall'altro. Legge della combinazione indipendente dei caratteri, i fattori ereditari relativi a caratteri diversi si combinano in modo indipendente l'uno dall'altro. Legge della dominanza, se due fattori ereditari relativi a un determinato carattere sono diversi, uno dei due fattori si manifesta e l'altro è nascosto. Le leggi di Mendel furono pubblicate nel 1865, ma non furono inizialmente accettate dalla comunità scientifica. Solo molti anni dopo, grazie agli studi di altri scienziati, le leggi di Mendel furono riconosciute come fondamentali per la comprensione dell'ereditarietà. Le leggi di Mendel hanno avuto un impatto enorme sulla scienza e sulla medicina. Hanno permesso di comprendere come si trasmettono i caratteri ereditari dai genitori ai figli e hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche di ingegneria genetica. Mendel è considerato uno dei più importanti scienziati della storia. I suoi studi hanno gettato le basi per la moderna genetica e hanno contribuito a migliorare la nostra comprensione della vita. I contributi di Mendel alla genetica I contributi di Mendel alla genetica sono molteplici e fondamentali. Innanzitutto, Mendel ha dimostrato che i caratteri ereditari sono trasmessi da genitori a figli secondo determinate leggi. Queste leggi sono state successivamente confermate da altri scienziati e sono alla base della genetica moderna. In secondo luogo, Mendel ha introdotto il concetto di gene, che è la unità elementare dell'ereditarietà. I geni sono composti da DNA e sono responsabili della trasmissione dei caratteri ereditari. In terzo luogo, Mendel ha sviluppato metodi sperimentali rigorosi per studiare l'ereditarietà. Questi metodi sono ancora utilizzati oggi dagli scienziati che studiano la genetica. I contributi di Mendel alla genetica hanno avuto un impatto enorme sulla scienza e sulla medicina. Hanno permesso di comprendere come si trasmettono i caratteri ereditari dai genitori e i figli e hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche di ingegneria genetica. Conclusione Gregor Mendel è uno degli scienziati più importanti della storia. I suoi studi sull'ereditarietà hanno gettato le basi per la moderna genetica e hanno contribuito a migliorare la nostra comprensione della vita.